Due secondi per arrivare al tiro, ci prova Franci Dotto! Un vizio! Un vizio di Francesca! Russo! Giro! E Gronka Orezio! Da parte di Francietta Russo! Oh! Cosa abbiamo visto? Ovviamente a coinvolgere il suo principale... E però Arsenio... Basta! Basta! Fila fino in fondo! Oh la gatta! No! Non ci credo! Viene servita però di gol a Romeo... Adesso ha poco tempo Romeo cerca una conclusione! Pazzesca di gol a Romeo! A presto!